In politica come nella vita si prova sempre a raggiungere degli obiettivi, ma non sempre poi si riesce nell'impetto. Noi volevamo dar vita a un progetto aperto, cioè un centro-sinistra largo e anche in discontinuità con le politiche che in questa legislatura erano state messe in atto dai governi guidati dal Partito Democratico. Questa possibilità non si è realizzata. Renzi dal palco di Scandicci ha detto che voi con il vostro voto aiutate la destra. Ci vuole un coraggio di dire questo da parte di Renzi. Io ogni giorno subisco gli attacchi della destra e ogni giorno combatto la destra e Salvini. Lo faccio sulla mia pelle ogni giorno. L'ultima terrificante azione è stata quella di dare alle fiamme a Bustastizio il mio fantoccio e quindi io sono andata a Bustastizio per dimostrare che si può avere idee diverse confrontandosi senza dare alle fiamme l'immagine di qualcun altro.